Mancanza di personale, almeno il 40%, turni stressanti e dipendenti in servizio con età media tra i 55 e i 56 anni. Sono alcune delle motivazioni alla base del Fisco Day, il giorno della protesta dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate, che hanno manifestato davanti a tutte le sedi abruzzesi, con una protesta organizzata dai rappresentanti di Will PA, CGL Funzione Pubblica, Federazione Confsal Unsa e Fielp Ecofin Agenzie Fiscali. I motivi del malcontento sono stati indicati anche in una lettera inviata al prefetto di Pescara Gerardina Basilicata, oltre che ai vertici regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate, al centro operativo e alla sezione assistenza multicanale. Questo è un punto di partenza, proseguiremo con una nuova iniziativa il 6 di febbraio, c'è una mobilitazione a Roma ma anche in molte città, probabilmente noi qui organizzeremo un nuovo presidio per tenere alta l'attenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica. Al centro della protesta anche l'assenza totale di risorse per il salario accessorio degli anni 2018 e 2019, nonostante gli obiettivi siano stati raggiunti, dicono i sindacalisti. I lavoratori che hanno raggiunto gli obiettivi che si era previstato dall'amministrazione, hanno raggiunto gli obiettivi nonostante le carenze di organi, quindi i carichi di lavoro sono andati sempre più a spremere questi lavoratori, quindi diciamo che l'obiettivo che si è prefissato all'amministrazione potrebbe non raggiungersi. Altro aspetto che preoccupa lavoratori e sindacati è quello della mancanza di interlocutori, perché i vertici dell'amministrazione, le figure apicali, sono andate in pensione e si avverte anche l'assenza della dirigenza in Abruzzo. Noi chiediamo che si facciano concorsi per diplomati, per laureati e anche di espletare dei percorsi di carriera interna, visto che non abbiamo vertici all'interno dell'agenzia, perché la politica, qualsiasi colore sia, perde tempo per spartirsi le poltrone, quindi noi siamo due mesi senza direttore generale dell'agenzia. La cosa principale che dovrebbe fare il nostro datore di lavoro è focalizzare l'attenzione sul patrimonio principale di qualsiasi azienda, cioè il personale, quindi dargli possibilità di carriera con l'ordinamento professionale che è fermo dalla firma del contratto, più di un anno è fermo, non c'è stato nessun passo in avanti, creare una possibilità di carriera con l'area quadri, togliere la prima area, dare la possibilità di gestire i fondi a livello autonomo.